Una sola similitudine che non è politica, è morale, è l'indifferenza. Nell'indifferenza il mio popolo è stato umiliato, denunciato, fatto vittima, arrestato, deportato e una volta arrivati là, per la maggior parte delle volte, gasato e bruciato per la colpa ad essere nato, nell'indifferenza generale del mondo. E la similitudine con oggi non è tanto il fatto della nave di Ciotti o Aquarius o un fatto specifico, ma l'indifferenza con cui si chiude il mare sopra i barconi degli emigranti che senza nome vengono dimenticati, annegano e il mare si chiude sopra. È il mare dell'indifferenza. Le politiche dell'immigrazione che sta portando avanti Salvini secondo lei aumentano? Vi saluto, sono senatrice a vita che si è astenuta dalla fiducia e sto a vedere. Salvini è il volto nuovo dell'Europa come città? Beh penso che ci vada molto vicino.